Il mattino dell'11 settembre 2001, 19 uomini armati di taglierini, comandati da un uomo in dialisi che stava in una grotta dall'altra parte del mondo e usava un cellulare e un computer portatile, hanno condotto la più sofisticata opera di penetrazione dello spazio aereo più difeso al mondo, immobilizzando passeggeri e piloti addestrati al combattimento su quattro aerei commerciali prima di svolazzarsene fuori rotta per più di un'ora senza mai venire molestati da un solo caccia della difesa. Questi 19 dirottatori, devoti religiosi fondamentalisti che amavano bere alcol, sniffare coca e vivere con spogliarelliste dai cappelli rosa, sono riusciti a far crollare tre palazzi con due aerei, mentre a Washington un pilota che non era in grado di guidare un Cessna monomotore faceva fare a un 757 una spirale discendente di 3.000 metri e 270 gradi e andava a colpire il Pentagono nell'ufficio della contabilità dove gli impiegati del Ministero della Difesa stavano lavorando sul mistero di 2,3 bilioni di dollari che il ministro Rumsfeld aveva appena dichiarato essere scomparsi dalle casse del Pentagono in una conferenza stampa del giorno prima, 10 settembre 2001. Fortunatamente gli annunciatori televisivi hanno saputo chi era il colpevole entro pochi minuti, gli esperti lo hanno saputo entro poche ore e il governo lo ha saputo il giorno stesso, mentre le prove cascavano letteralmente nelle braccia dell'FBI. Ma per qualche strano motivo una manciata di folli cospirazionisti ha preteso una indagine sul più grande attacco mai subito dall'America nella storia. Questa indagine venne ritardata, sottofinanziata, impostata per fallire, fu un conflitto di interessi e un insabbiamento dall'inizio alla fine. Era basata su testimonianze ottenute sotto tortura la cui documentazione è stata distrutta. Si è dimenticata di citare l'edificio 7, Abel Danger, P-TECH, Sibel Edmonds, i rapporti fra Bin Laden e la CIA e le esercitazioni con aerei dirottati che venivano lanciati contro edifici nello stesso momento in cui questi fatti accadevano davvero. Una commissione a cui hanno mentito il Pentagono, la CIA, il governo Bush e per quel che riguarda Bush e Cheney nessuno sa cosa abbiano detto perché hanno testimoniato in segreto, privatamente, non sotto giuramento e a porte chiuse. La commissione non si è preoccupata di stabilire chi abbia finanziato gli attentati perché la cosa era di scarso significato pratico. Nonostante questo la commissione ha brillantemente risposto a tutte le domande eccetto per la maggioranza delle domande poste dai familiari delle vittime ed ha saputo individuare tutti i responsabili per quanto nessuno abbia mai perso il posto concludendo che gli attentati furono dovuti ad una perché eccetto per il Pentagono, la FIMA, il NORAD e l'Agenzia Spaziale. La DIA ha distrutto due terabyte e mezzo di dati su Able Danger ma non c'è problema perché probabilmente non era roba importante. La SCC ha distrutto i dati sull'indagine dell'insider trading ma non c'è problema perché la distruzione di dati nella più importante indagine mai svolta dalla SCC fa parte delle normali procedure di amministrazione. Il NIST ha segretato i dati del loro modello al computer sul crollo del VTC7 ma non c'è problema perché facendo sapere come avevano realizzato quel modello avrebbe messo a repentaglio la sicurezza pubblica. L'FBI ha sostenuto che tutte le informazioni sull'indagine dell'11 settembre andrebbero tenute nascoste al pubblico ma non c'è problema perché l'FBI probabilmente non ha niente da nascondere. Quest'uomo non è mai esistito e nulla di quello che ha mai detto merita la vostra attenzione e se sostieni il contrario sei un complotista paranoico che merita di essere disprezzato dal resto dell'umanità. Stessa cosa per lui, lui, lui e lei e poi lei, lei e lui. Osama Bin Laden viveva in una grotta fortificata sulle montagne dell'Afghanistan ma in qualche modo è riuscito a scappare. Poi si è nascosto a Torabora ma in qualche modo è riuscito a scappare. Poi ha vissuto per anni a Abbottabad prendendo in giro la più complessa rete di intelligence che utilizzava la più sofisticata tecnologia nella storia degli ultimi dieci anni rilasciando impunemente video dopo video mentre nel frattempo diventava ogni volta più giovane fino ad essere finalmente scoperto da una coraggiosa azione dei Marines che non è stata ripresa dal video nella quale non ha opposto resistenza né ha usato la moglie come scudo umano ma nella quale questi imbecilli delle forze speciali sono andati nel panico e hanno ucciso quest'uomo disarmato che rappresentava la migliore fonte di informazioni nel mondo su tutti i maledetti terroristi del pianeta. Poi hanno gettato il suo corpo in mare senza dirlo a nessuno e poi due dozzine dei membri di quella squadra speciale sono morti in un incidente di elicottero in Afghanistan. Questa è la storia dell'11 settembre offertevi dai media che vi hanno raccontato la pura verità su e e e se avete dei dubbi su questa storia siete un lurido, paranoico, imbecille che abusa dei cani e odia i bambini e sarete disprezzati da tutti. Se invece amate il vostro paese la libertà, la felicità, gli arcobaleni il rock'n'roll, i cuccioli di cane la torta di mele e vostra nonna non dovrete mai esprimere il minimo dubbio su una parte qualunque di questa storia a nessuno mai. This has been a public service announcement by the friends of the FBI, CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, White House, NIST, and the 9-11 Commission. Because ignorance is strength.